Ammazzavano tutti i civili, tiravano le bombe, ho visto tanti morti davanti a me, ho corso loro per aiutare, andare all'ospedale, i miei due amici hanno chiesto soldi, la famiglia non poteva dare, non si sa fino da tre anni, da tre anni che non si sa dove sono, la vita per noi era molto molto difficile. Perché ho studiato in Italia e poi tutti i miei studi, 12 anni, ho fatto tutto l'italiano, filosofia, teologia, psicologia, tutto quello quando ero frate francescano. Ecco, hai visto come? Ho imparato come ero frate francescano, ringrazio la custodia di Tierra Santa che mi hanno aiutato tanto, tanto, tanto per imparare tanto. Tutto ho imparato così e poi ho lasciato l'ordine. Adesso ho sposato con mia moglie Tamara. Adesso aspettiamo in Italia non aspetto niente perché non so il futuro di niente. Quello che so sia fatta secondo la volontà il mio Signore Gesù. Solo questo chiedo. Per il cuore insulta Allora, il controllo di polizia appena arriviamo. Allora, il controllo di polizia.